34. Non in questa vita. Sono felice per lei, disse il chirurgo alla paziente. Poi gli venne un pensiero improvviso. Qualcuno ha visto la figlia della paziente, disse all'infermiera. Scusatemi, mormorò in fretta il chirurgo, e uscì. La figlia della paziente aspettava in corridoio, non portava più l'impermeabile della sera prima e un sorriso riconoscente le illuminava il viso. Si scambiarono uno sguardo e il medico avvertì una sorta di attrazione tra loro. Sta meglio con i capelli asciutti, osservò. E lei non è così scorbutico come ieri sera. Ha saputo, domandò il medico dopo un attimo di silenzio. Sì, mi ha informato l'infermiera. «Là dentro», il chirurgo accennò alla camera, «là dentro ringraziano me, ma è lei che dovrebbero ringraziare, perché mi ha portato sua madre il più presto possibile». «Beh, il chirurgo e lei ribatté la ragazza con un sorriso dolcissimo». Ad un tratto, caduta ogni barriera, scoppiarono insieme a ridere e lei a piangere ad un tempo. Poi, spinto da un impulso improvviso, il chirurgo strinse fra le braccia la figlia della paziente e la baciò. «Mi scusi», disse, «sento che l'ho già conosciuta, ma non in questa vita». «Fa, il chirurgo e lei a ribegge la paziente». «Fa, il chirurgo e lei a ribegge la paziente». «La prima volta che l'ho già conosciuta,